Eccoci qua con un nuovo video sul canale, oggi porterò un video sul canale leggermente diverso dal solito Vi mostrerò l'album Calciatori 1997-1998 Eccolo qua, tiriamolo fuori dalla busta protettiva Oggi vi spiego anche il modo che uso io per collezionare Che non è attaccando le figurine sull'album, infatti come potete ben vedere sono tutte figurine, sono tutte completamente staccate E' vuoto l'album, immacolato Questo perché mi piace tenere comunque l'album in perfette condizioni innanzitutto Perché attaccandole si rovina molto, si rischia che le pagine si attacchino tra di loro E col tempo si usura sicuramente E poi perché mi piace mantenere la figurina col suo valore naturale Quindi col tempo sicuramente prenderà valore rispetto a che trovarla attaccata sull'album Sono due modi completamente diversi ad attaccare E sono scelte ragazzi C'è chi piace e chi non piace, io preferisco farlo così Quest'album racchiude 670 figurine Forse non tutti se lo ricorderanno Ma questo qui, o forse moltissimi se lo ricordano E' l'anno in cui Ronaldo fu stato messo a terra in area di rigore da Pessotto Quel rigore molto dubbio che secondo me c'era o non c'era, non lo so Non voglio espormi Successe l'impossibile durante quell'azione Poi ripartendo dall'altra parte opposta da Juventus nel derby d'Italia Fu stata messa a terra e l'album ha concesso il rigore Forse è uno dei rigori più dubbi degli ultimi 30 anni, 50 anni Forse è tutta la storia del calcio E forse è ancora uno di quelli ancora più discussi Adesso vi faccio vedere l'album E adesso voi mi stai chiedendo Dove sono le figurine? Cioè, va bene l'album, ma le figurine c'è tanto vale Le figurine io le tengo tutte in queste buste Apposite buste per le figurine E poi insomma vi faccio vedere Abbiamo inserito l'Atalanta Con dei vari giocatori Che molti non li conosco anch'io Magari Cristiano Lucrelli Ragazzi io sono nel 98 quindi molti non li conosco E non ero neanche nato Poi abbiamo il Bari Con magari gente più conosciuta Magari con Zambrotta Che ha vinto il mondiale con l'Italia 2006 Nicola Ventro che ha giocato nell'Atalanta Poi abbiamo un Robertone Baggio ragazzi Robi Baggio Vi faccio vedere solo le figure più comuni Cioè più Quelle più famose insomma Lele Adani che adesso è diventato forse migliore Di quando rispetto a quando giocava come commentatore Fa morire da ridere ragazzi Può piacere o non piacere ma raga Quanto spacca Poi abbiamo Andrea Pirlo Forse questa è una delle prime figure di Pirlo Forse è la Ruki addirittura Ma non sono sicuro forse no Cristiano Doni I gemelli filippini Poi abbiamo Lempoli Che qua non abbiamo grossi giocatori La Fiorentina Qui abbiamo grossi giocatori Perché abbiamo Gabriele Omar Batistuta Rui Costa Poi abbiamo l'Inter Con veramente ragazzi Qua abbiamo i top abbiamo Vi faccio vedere la figurina che sta qua Raga Abbiamo Forse questa è la figurina La figurina di Ronaldo ragazzi Ronaldone Cioè ditemi voi raga In condizioni perfette Immacolate La figurina di Ronaldo 97-98 è la prima di figurina di Ronaldo In Italia Che quell'anno lì Siglò addirittura 25 letti La prima stagione con la maglia dell'Inter Che direi Che sia una discreta somma Che oltre a questa scuola Questo giocatore abbiamo Giorca F Simeone Che è ora l'allenatore Dell'Atletico Abbiamo Zanetti Abbiamo Terrible West Passiamo alla Juventus E quindi la Juventus Che è arrivata prima quest'anno Di quella stagione di Serie A Con 75 punti No con 74 punti E con sui 5 punti indietro C'era l'Inter Proprio al secondo posto Considerata forse quella partita Che stavo parlando prima Forse come la partita decisiva Per lo Scudetto Perché poi Scattò bene in avanti La Juventus Quell'anno E abbiamo Montero Che ha fatto quel famoso Fallo su Ronaldone Il fenomeno Poi abbiamo Zinedine Zidane Del Piero Antonio Conte Che ora allena proprio l'Inter Filippo Inzaghi Fonseca De Chams Nincitore anche del mondiale Con la Francia Ragazzi Cioè Squadra piena di fenomeni Forse Leggermente più forte sulla carta L'unico giocatore Che era più forte In questa squadra Era Ronaldo E basta Poi la Juventus Cosa vuol dire Era devastante Poi abbiamo una Signora Lazio Abbiamo Nesta Che poi passò al Milan Qualche non è successivo Mancini Nedved Che vinse anche il Palone d'Oro Con la Lazio Poi abbiamo Lecce Che qui non Ha grossi giocatori Abbiamo il Milan Che quell'anno lì Fu l'anno più di transizione Nonostante i grossi nomi Che poteva contenere Perché arrivò Decimo Undicesimo Non lo ricordo male Ma comunque Già aveva grossi nomi Perché Maldini Costa Curta Aveva UEA Vincito il Palone d'Oro Qualche anno prima Klaivert Il padre Che raga è uguale Due giocatori Completamente diversi Justin e Patrick Ma raga I faccia identici Poi abbiamo Desai Lee Leonardo Che era il direttore sportivo Del PSG Ba Boban Ragazzi Grandissimi nomi Questo Milan Che non capisco Come possa essere arrivato Così in basso Poi abbiamo il Napoli Che quell'anno lì Retrocesse Con qualcosa come 14 punti E una serie tipo Di due vittorie 8 paretici 24 sconfitte Quell'anno lì Disastroso per il Napoli E infatti A parte la figurina Che voglio ricordare Massimo Allegri Giusto perché Ha vinto qualche Scudetto con la Juve Il resto Non è proprio Dei migliori Non è come il Napoli Che vediamo ora Abbiamo una signora Parma Che c'era La figura di Buffon Gigi Abbiamo Turam Cannavaro Perché che abbiamo qua Crespo raga Hernan Crespo Quindi questa è la sicura Una signora Un signor Parma Poi abbiamo il Piacenza Che da ricordare Non abbiamo magari nessuno La Roma Con Cafu Raga Francesco Totti Anche questa sarà La quarta Quinta figurina Che c'è Francesco Totti Un giovanissimo Francesco Totti Perché poi raga Forse è la figurina Che c'era di più di qua Proprio di Francesco Totti Questa è la figurina 1997-1998 Questa mi sa Che è andata pure Esaurita in panini Quindi se ce l'avete Tendrà ben stretta Che il suo valore Può solo che salire Anche questa era Una signora Sampi Invece Con Mijajlovic Poi avevamo Come si chiama Verón Signori ragazzi Veramente Un'ottima Sampdoria E poi abbiamo Un Udinese Con l'anno lì Grande stagione dell'Udinese Nonostante non i nomi Fortissimi Ma poteva contare Del suo bomber Che era Bierhoff Veramente grande Grande bomber Che vinse anche Il campo canonico Di quella che erano lì Ovviamente Poi abbiamo Il Vicenza Che è questo Anche qua A parte la Prima Una delle prime figurine Di Massimo Ambrosini Non voglio ricordare Altri nomi Perché non me li ricordo Poi cosa abbiamo Abbiamo Le figurine Quelle speciali Che erano Queste qua Guardate che belle raga Bellissime Ve le faccio vedere Giusto una Che è quella di Deselli Guardate che belle raga Cioè le hanno fatte Qualche anno fa Ma Con queste Con queste idee ragazzi Bellissime Questo qua è quella di Ronaldo Raga Guardate che belle raga Fatte benissimo Cioè sicuramente dovrebbero rifarle Così bene soprattutto Veramente Veramente belle raga Qui altre figurine Qui altre figurine Ovviamente con Mihailovic Zola Che era Forse all'estero Ancora Zanetti Zidane Raga Veramente grandissime Grandissime E bellissime figurine E abbiamo Tutta la carrellata Delle figurine Della serie B Tutte le figurine Della serie B Che non sto qua A provvedere Una a una Se no Non finisce più E poi abbiamo Le serie C Io direi che con Questo video È tutto Raga Se volete Altri video di questo genere Con altre figurine Con altre squadre Non lo so Fate voi Ditemi voi Con altre stagioni Che io Molti degli anni 90 Ce li ho Sto continuando a collezionarle E poi inconcerò Con quelli degli anni 80 Ho figurine dei mondiali Europei E anche più indietro Veramente indietro Anche dei mondiali Direi che col video Qua è tutto Raga Alla prossima